Signore e signori benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon Quest, oggi sono in compagnia di Wither Ciao! E it's the quest time! E dunque signori, allora, bentornati nella Pixelmon, come state? Tutto bene, signor Wither? Tutto bene? Eh, io sto proprio benissimo qua Lo sento, lo sento dalla voce Allora, ci sono un po' di cose che voglio andare a fare in questo episodio, ecco perché l'ho chiamato The Quest Time Innanzitutto, la quest della settimana dice di portare un Pokémon al 100 E infatti, come potete vedere, ho un Malamar all'88 Ma, chi ci viene in soccorso in questo caso? Beh, signori, proprio il buon Witherozzo Che ci darà il numero esatto e preciso per poter terminare la nostra quest Quindi, sganci le 12, caramellerare, tiriamo fuori Malamar e signori, portiamolo al livello 100 Perché era tipo improbabile farlo livellare fino al 100 Tenendo conto che l'avevo preso e che era 70, perché ce l'avevo in squadra Quindi portiamolo al 100, guardate un po' come sono free to play Ecco qua, Malamar al 100 Perfetto, quindi direi di bounceare direttamente all'hub, prendere i punti side quest e poi iniziare a sclerare Perché lì bisognerà sclerare nelle quest Eccoci qua, finalmente andiamo giù nei dormitori Boom, boom, boom Siamo pronti Infatti, signori, come vedete io sono il penultimo praticamente E questa cosa non è che mi vada molto giù, se devo essere onesto Boom, shiny azzurri, poke doll Che andiamo a poggiare qui insieme alle altre nel dimenticatoio Quindi, signor Wither, cosa facciamo? Da dove iniziamo? Io ho segnato un po' di quest da fare Non faremo le palestre perché ovviamente sappiamo tutti che sono il male divino Io ho una side quest del deserto Ne ho tre Acqua, giungla e deserto Poi se lei ne ha qualcun'altra, se me la vuole dare Io, allora, vediamo un po' quale ho Iniziamo da quella del deserto Ok, dovrei avercela pure io perché mi sa che l'ho già fatta Ok, eccoci qua Questo è il deserto Ah, vero signori, devo farmi la squadra Perché ovviamente non posso andare con questa Quindi direi di riprendere Gengar Portarlo qui E lasciare Malamar a livello 100 Anzi, in realtà, devo prendermi il fortunuovo Quindi un attimino, faccio così Grazie del fortunuovo mio, tra l'altro Riprendiamo Gengar E direi, Gengar lo dico Lo Lucario, Graudon, Charizard E a questo punto Shiftry Direi di lasciarlo un attimo Per riprendere Per riprendere Vediamo chi posso mettere al posto di Shiftry Non so che Pokémon ha Però le potrei consigliare un C'ho Chiure O Chiure Un Chiure Diciamo che per ora mettiamo Chiure Ok Ok Allora, direi di andare con ordine Perché Una palestra di tipo deserto O meglio Potrebbe avere Pokémon di tipo fuoco Sì Però le dico di no Va bene È un sì e mai un no E cioè che Pokémon hanno Così mi impronto la squadra Sul Se non mi ricordo male Sono Pokémon di tipo roccia Roccia Quindi vabbè L'acqua Funziona Sì Quindi direi di partire con l'udicolo Primo boss Non comune con un Golem Ok Quindi proviamo con Bollaraggio Ciao Golem È stato un piacere Smackdown Versus Raw Per chi lo vedeva Non so se lei l'ha mai visto No, non l'ho mai visto Tanta roba Tanta roba E vedo che l'udicolo Mi sta a fare I danni Perché l'udicolo è un ottimo Pokémon Fortissimo L'attacco Bollaraggio Insomma mi piace il giusto Però devo dire che per ora Fortunatamente Non vorrei dire Ma sembra Ha vinto Che stia andando tutto bene Quindi primo andato Cicliamo Oh bene Primo andato Sì Adesso in teoria dovremmo scendere Se non erro Sì esatto Deve rompere questo cosino qua Questo? Sì E voilà Poi se vede dovrebbe esserci una cassa Dove dice rimettilo Vabbè rimetto questo Esatto E andiamo verso il secondo Come si apre? Prego le apro le porte Grazie Non avevo capito Pensavo fosse una porta Stavo cercando il pulsante Raidon Occhio qui Rischiamo di vincerla subito Quindi Rischiamo di vincerla subito Perché è proprio un male No Glyscore mi ha fatto un po' di danno Voglio provare Eh Glyscore non è Eh Allora Ficcao cattivo Facciamo Vediamo se mi esce La giocata Faccio Eccadrella Ipnosi Ma l'ha mancato Riprovo con ipnosi Si addormentano Mangia sogni Bravissima E gli facciamo una sega di danno Perché non ne abbiamo fatto niente Quindi Palaombra Vediamo Eh Palaombra è fortissimo Però si è svegliato E mi sta Aprendo come una scatoletta di tonno Esatto Non è che mi gusti molto Però è andato Però è andato E è ritornato Glyscore Che forse con Palaombra Ci saluta E anche il secondo Signori E' andato Andiamo per il terzo Signori ovviamente Vi ricordo che il canale di Wither Lo troverete giù in descrizione Andate a fare un salto Perché Insieme agli altri Stiamo portando la Pixel One Quest Anche discretamente bene Secondo me Però ci serve anche il vostro supporto Questo è l'ultimo? Eh Sì è l'ultimo Sì è l'ultimo Sì è l'ultimo E posso assicurarle che il boss Non è così semplice Almeno per me Ok Crocodile Ok non sono cambiati per niente i Pokémon Sai che forse ho sbagliato Voglio provare una cosa Faccio fuga E parto con Graudon Questo perché Eh Che Graudon è? Eh Oh Golurk Io sono l'unico che ha due leggendari in croce Eh Allora con Graudon Gli ho messo Lievito a roccia Adesso Ok Voglio provare Innanzitutto se Principal Blade Gli fa qualcosa Eh Gli fai un botto Non tantissimo Però l'importante è Quando entrerà il prossimo Pokémon Prenderà danno Che è successo? Eh La Gli è arrivato un errore in chat Sì Sì E dunque signori Allora è passato un po' di tempo Dall'ultima clip E anche cambiato il partner E oggi siamo in compagna di Maruko Ciao a tutti E praticamente avevamo avuto un po' di problemi col server Non riuscivo praticamente A terminare la battaglia con Il capo della quest Abbiamo anche aggiornato il mod pack Calla 2.5 Giusto? Esatto Arriveranno tante novità ragazzi sul server Che metteranno appunto tante cose E quindi Vediamo di Continuare quello che stavamo facendo l'altra volta Tra l'altro sono entrato anche con un Groudon mezzo morto Direi di Ripartire con Lievito a roccia Oh Wow Lui è abbastanza forte Vediamo se riesco a fargli un pelino di danno Nemmeno più di tanto Oddio Un pochino sì Quindi Principal Blade Va giù Stilix Stilix ciao Brucialo brucialo Eh non ce l'ho C'è il fulminello Sai che forse Ah ma è il Mega Stilix Sì sì Lui si Mega Evolve Tanta roba Mega Stilix Ecco là Credo che forse Groudon ci saluterà Nemmeno più di tanto Eh Ah no sì E si era attaccato da solo Quindi posso bruciarlo Hai detto Assolutamente sì Mossa Z con Charizard Ciao bello Ha rimesso Crocodile Io proverei Io proverei oltraggio Ok ci ha risultato Ok ci ha risultato Favolo Perfetto Non tantissima Forse ci saluterà anche Riproviamo con Lanciafiamme Eh sì Ma ci saluta Peccato Siamo Lucario Mega Evoluzione E direi Forza Sfera Amaro Lucario Amaro Lucario Infatti Vediamo se Nidoquin va giù Con Forza Sfera di Lucario Ulla Ha preso un bel po' Doppio calcio Mi fa il giusto Nemmeno più di tanto A questo punto Andrei di Zuffa Ecco là Che gli fa Una fraccaccia La Zuffa è la tattica Sta sempre bene Sono molto più veloce E infatti è andato Eccolo Nidoquin Eh certo Che prende un po' di danno Sì Allora io direi Siccome non riuscirò a fare altri attacchi Faccio Zuffa E infatti E Lucario ci saluta A questo punto Direi di mettere Gengar E di fare Ipnosi Ma non va Vediamo se riesco di nuovo A fargli Ipnosi E è andato giù E a questo punto Mangia Sogni E Nidoquin Ci saluta E' una combo micidiale E' un vuoto Della struttura Quindi signor Maruco Prossima quest Andiamo Prossima quest Signori Quest della giungla Batti tutti gli allenatori Prima di arrivare in fondo Direi anche di Curarmi Pokémon A questo punto E di partire Come sempre Con Graudon davanti Lei mi ha detto Che è abbastanza easy Sì Con il Graudon Anche io Ho fatto i miei dannini Questa l'ho già affrontata Allora ci proviamo Andiamo col Eeeh Qual la volevo Che succede? Che cosa sta accadendo? Vado avanti Dove devo andare? Vadi vadi Torni dall'allenatore E guardi sempre avanti Vede? Ma che fa? C'è la trappolozza La situazione è gravel Eh sì Eh la situazione è Graudon Esatto Non so che cosa sta succedendo Ma Roggenrola Mi ha massacrato Graudon Ottimo Andiamo di Gengar allora Palla ombra E in teoria Ci dovrebbe salutare Continuiamo con un bel Palla ombra Oh Ippo down Eh l'hai buttato nella lava Mi scusi Ma tutta questa Cattiveria Mi aveva detto Che era facile Io Non ho avuto Particolari problemi Con la Con questa quest Porca Eh mi sta Me le sta Quasi suonando Anche questa Ah Solrock malefico Quanto fiori Eh sì Questa è di tipo roccia Quindi se ha qualcosa D'acqua Sarebbe l'ideale Allora l'udicolo Lo utilizzo alla fine Assolutamente L'udicolo potrebbe Darle delle soddisfazioni Oh mi scusi Ma mi butta giù Il curem così cattivo Sì 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 Questo è il curem di Nico Infatti è cure Nico Esatto Eccolo là Oh è andato Grazie mille Adesso devo fare attenzione A non piar danno Ah lì vedo che c'è anche Eh forse il mio Cheat Lascio un pc E il raggiro per il mondo Eh perfetto Allora lo recupero Riesco a passare Senza che succeda niente Sì esatto No no si triggera Solo dall'inizio Eccolo là Allora andiamo sempre Di levito a roccia Grazie Grazie Io sto prendendo danno Probabilmente Sì ha preso un pochino Di danno Oltraggio Mi sta facendo Ma nemmeno più di tanto Cranido Si è andato Lilip Che prende danno Esatto Esatto Ho un blocco Terra cotta arancione Che mi permetterà Di risalire Perfetto Abbattuto anche il secondo allenatore Sì 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 Ecco l'ultimo un pochino Più cattivato Ma non troppo Ma non troppo Va bene va bene Vediamo se il mio Graudon È della stessa idea Si tenga l'udicolo Perché secondo me Servirà per la causa Prego Pronti Graudon Solita Levito a roccia Pupitar Eh sì Vediamo Dovrei averla fatta Levito a roccia Non l'ho controllato Forse sì Vabbè nel caso Inizio ad attaccare Olè Il primo È quasi andato A questo punto Direi Un altro Principal Blade Lo avevo lasciato Praticamente A un HP Diorito Sì Prende danno Quindi molto probabilmente Avevo fatto Levito a roccia Ok Si sta mega evolvendo Signor Maru Sì esatto Il Kamerut Che si chiama Diorito Noti i nomi Quanto sono belli A volte Sì ho notato Però gli ho fatto qualcosina Non vorrei Non mi attacca Penso sia Dica dica Non mi chieda perché È andato anche quello Penso sia La divinità Che fa coppia con Granito Diorito Andesito Ottimo Vediamo se Despasito Non ha effetto Despasito Pasito Pasito Ippodown Mi manda down E anche shiny Sì sì ho visto Però Gengar A questo punto È andato Signori E anche questa È fatta Di andare Alla prossima quest Mi scusi signor Frank però Non mi dice nulla Del mio look Ma lei è bellissimo Avete notato Visto il cambio Tattico Avete visto Quanto è bello Un bel like Per la nuova Ski di Maruco Certo Figa Possiamo andare Andiamo Intanto vedo che crolla Della via Salve Sotto il ponte di baracca Che c'è C'è Pierin che fa la cacca Regole Non spaccare o piazzare blocchi Batti tutti gli allenatori Crafta solo con gli item Che ti forniranno Loro Devi craftare una pozione Di respirazione acquatica E suppongo sia Questa Sì Solo che Gli allenatori Daranno Tutto il necessario Per craftare la pozione Quindi devo battere Prima questi Esatto Esatto Ok Ok Perfetto Perché tra l'altro Notate nella barra Delle side quest Io sono l'ultimo E che non c'è Non è che mi gusti molto Quindi Graudon pronto Le ricordo che c'è Ludicolo Che non subisce Niente dall'acqua Ma fa una Sfracca di danni Con il tipo erba Quindi secondo me In questa quest Il signor Ludicolo Darà tante soddisfazioni Guardi come glielo dico Sì Già Gengar Mi dà tante soddisfazioni Vero Vero Lo so Lo so C'ha questa palla a ombra Che è impressionante Assolutamente Tentacrue Le è andate Prendono danno Sempre Poliwhirl Arrivedor No Le l'ha anche buttato a mare Perfetto Ai Me l'ha fatto Complimentoni Vado di Lucario Allora Assolutamente Che forse Un bel Forza Oh me l'ha addormentato Guarda il tizio Guardalo Eh sì No no Vedo vedo Arrivederci Poi Arrivederci Oh Alla momola È entrato Perfetto è morto Allora sai che faccio Zuffa Eh sì Gli voglio far tanto danno Subito Eh certo Ok Andrei di nuovo di zuffa Ed è quasi andato giù È andato giù Lucario È andato giù Se Drago Mi geli il mondo Urca Ed è andata Ok Ampolla Ottimo Quella poi Esatto La devo riempire d'acqua La devi riempire d'acqua Esatto E l'altro NPC dovrebbe darti A ricordi logica La netherworld E io ho perso Ti serve per attivare il tutto L'healer L'ha perso No L'hai posizionato lassù Non si posiziona nelle slab Complimenti Franks Grazie Prego prego Vadi Slubro Oh questo mi darà tanti problemi Ha cambiato il ludicolo Visto Che in teoria dovrebbe prendere un po' di danno A questo punto gli faccio solo a raggio Non gli faccio quasi niente Eh no Mi ha barrato Graudon L'udicolo Eh sì Anche lui ha l'udicolo Eh sì 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 Qualcosa non mi torna Eh Gelamondo sì Eh dovrebbe fare un po' di danno Tipo erba Sì gli ho fatto Eh ma si ricura tipo tutto Sì sì lo so è vero è vero Eh quello sì No basta Che cos'è Eh Dove stanno andando tra la Basta usare Esatto Stanno andando a farsi La crociera Perfetto Ha switchato Ha messo Slowbro Perfetto Che sicuramente mi darà una fracca di problemi Perché Slowbro è un bel Pokémon Sì Ha l'insonnia Però è andato È ritornato l'udicolo Che prende un po' di danno Perfetto Non so mai per caso A gelarti Visto che il quinto attacco Tipo gelo Che ti faccio Per esempio Geloraggio fa più danno Quindi sai che ti dico Arrivederci l'udicolo Esatto Ha rimesso Slowbro Dire di fare geloraggio Anche su di lui E anche questo È andato Quindi andiamo a farci La Pozione Un sciola Quella bella Bella Quindi Lo spruzzo qui Andiamo a fare L'alambicco Gentilmente Senza che io Perda nulla Mi rimpiazzerebbe Ma scherzo Ecco qua Grazie A questo punto Per poter fare La pozione Di Water Rest Che è pronta Che è pronta Devo mettere Un pesce palla Una redstone E basta Perché la glowstone In realtà Te la fa splash Ma non serve a nulla Credo Quindi la lascio Eccola qua Quindi Allora Mi faccia capire Io devo andare di qua Prendo l'healer Ci dobbiamo buttare Quaggiù Dove Precisamente Lì Quindi bevo adesso Vadi Vadi Sì ubriati Sì ubriati Ah Fresca Via